Buongiorno a tutti, sono Fabrizio, vengo da Quarto Sant'Elena Cagliari. Ho conosciuto la vostra clinica grazie alla pubblicità che è presente da noi in Sardegna un po' ovunque. Poi per capire meglio come si svolgeva il lavoro qui, ho conosciuto delle persone che erano state qua e che mi hanno parlato molto bene di quanto venissero fatti bene i lavori qua, quindi con testimonianze dirette. Il mio primo impatto è stato molto positivo, non ho percepito alcun dolore. Certo, non posso dire che sia stata una passeggiata, però lo rifarei altre cento volte per ottenere un sorriso che adesso ho nella mia bocca. Non ho più timore di sorridere, non ho più timore di parlare con le persone che prima sembravano ti osservassero per un sorriso che non era dei migliori. Lo consiglio a chiunque vuole intraprendere questo percorso perché io non ho trovato da altre parti la loro professionalità, la loro pulizia, la loro organizzazione. Il sorriso per me è importantissimo anche perché sono una persona, come avrei capito, abbastanza solare che fa amicizia un po' con tutti, mi piace divertirmi insieme agli altri. Quindi il sorriso fa parte del contesto del divertimento e anche dello star bene interiormente. Grazie.